Grazie a tutti, grazie per l'invito, mi sembra particolarmente significativo anche dal punto di vista simbolico e presenziale oggi a questa cerimonia, che riflette anche un po' l'importanza del contributo che tanti italiani hanno dato allo sviluppo di questo paese, un contributo che si rinnova anche ai giorni nostri, c'è una presenza italiana non altrettanto significativa come in altri paesi dell'America Latina in termini quantitativi, ma in termini qualitativi credo che non abbia da invidiare nessun paese dell'America Latina e anche quelli di Fort Ute. Ringrazio di nuovo per l'invito, ringrazio il padre per aver accolto l'invito a celebrare una messa in italiano e sono particolarmente contento di questo primo contatto con la comunità italiana. Grazie mille.